ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi io sono fox e oggi leggo dei commenti allora ho postato qualche ora fa un post nello specifico ragazzi questo è finalmente primo giorno con l'impianto fotovoltaico fai da me bene ci davo il video che è uscito poche ore fa a no scusa ieri è uscito ieri buone visualizzazioni però ragazzi mi raccomando guardate il video guardateli tutti commentate lasciate like per come state facendo e ancora di più così da poter crescere se non sei iscritto al canale iscriviti mi raccomando allora ho postato questo posto in un gruppo ragazzi dedicato all'argomento elettricità dove dovrebbero esserci tantissimi esperti e non del settore ragazzi che cosa è successo allora ma come sempre quando io posto qualcosa qui già vediamo le reazioni uno due tre quattro ridono che c'è da ridere e poi ci sono quattro pollici in su va bene andiamo a vedere e qua è una mia risposta ma va bene andiamo avanti e allora che merda che merda è arrivato lì che merda va bene poi è un trollo vero io ragazzi sarei un trollo perché perché ho scritto primo giorno del mio impianto fotovoltaico ma va bene manca poco che mi bloccano anche il l'account e mi eliminano pure il video tanto sono invidiosi e rosiconi poi potenza di picco 3,3 kilowattora non si può sentire lo so ho sbagliato errare umanum est ma vorrei vedere voi in due secondi a cambiare la modalità in videoregistrazione ragazzi cioè io ero lì e ho preso il telefono via registriamo cioè senza fogli di carta senza scaletta senza niente io registro faccio i video ragazzi di stomaco per come mi vengono ed è normale che in dieci minuti di video in otto minuti di video in cinque minuti di video può scappare qualcosa ma una persona intelligente che vede la realizzazione non si attacca al kilowattora invece di kilowatt cioè non ti puoi attaccare a questo mannaggia voi comunque le notifiche iniziano e continuano ad arrivare dai vari gruppi dove ho spammato il video comunque fosse solo quello e che c'è che non va ma scrivilo scrivilo e qui un'altra reazione che ride altre tre pollici invece gli danno la ragione ma va bene io qui ho risposto a chi diceva del troll e ho scritto un troll che risparmia sulle bollette il 90 95 per cento forse porno per voi mi sa che qui dentro di veri elettricisti ed appassionati di energia elettrica ce ne siano davvero poche persone peccato buone bollette o no ragazzi ho fatto bene sì ho fatto bene questo tizio continua a che cazzaro 3,6 watt p che arriva a produrre 3,3 kilowatt ragazzi questo signore non ha visto ancora il video dove siamo arrivati a 3,9 kilowatt di produzione con che cosa 10 pannelli da 360 ragazzi l'installazione e l'impianto di fox ormai lo conoscete dite per favore a questo signore che sta sbagliando mannaggia lui e comunque continua con un 3,6 p non arriverai mai a produrre 3,3 e poi io qui ho messo io la reazione alla sua cavolata ragazzi anche qui cavolata loro non arrivano io arrivo e supero abbondantemente i 3,3 ragazzi il mio impianto sta a 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 kilowatt 3,8 kilowatt 3,9 kilowatt senza problemi ma perché perché ragazzi il mio impianto come sapete è un impianto studiato è un impianto ragionato ragazzi tanti dicono che io sia un troll sia una merda sia un coglione sia la qualsiasi ma penso che a fine i risultati parlano chiaro i risultati e ancora ragazzi attenzione l'impianto non è finito ancora manca ad avviare l'altro inverter mancano gli altri pannelli ma già ora ragazzi io sono off grid io da già da ora riesco ad essere riesco ad essere distaccato dalla rete autonomo ragazzi ma glielo ho spiegato a voi con chi hanno a che fare cioè a me non piace vantarmi parlare di me positivamente ma quando poi sento questi fannulloni commentare mi scappa mi scappa mi scappa ragazzi però è stata bellissima è stato bellissima io lo adoro a questo signore questo ragazzo lo adoro perché ha scritto la realtà gli impianti in commercio da 3,6 è vero non arrivano a produrre 3.3 mai perché il mio produce perché ragazzi ho saputo scegliere le componenti ho saputo installare tutti ho saputo progettare una struttura con gli attributi ragazzi con gli attributi una struttura che non esiste nel mondo c'è la fox perché l'è fatta fox niente ragazzi per questo video è tutto spero che i commenti non continuino perché se no facciamo la parte 2 e vi farò ridere perché così è giusto perché così è bello ragazzi andiamo a leggere le cazzate che sparano le persone nei commenti dei miei poveri video per questo video ragazzi è tutto vi ringrazio per la visione spero ti sia piaciuto ti sei divertito non mi commentare anche tu a caspita perché non mi piace si razionale guarda quello che io ho realizzato e poi dimmi se è una cazzata se è una cazzata va bene rito io per te ma non rito perché tu stai dicendo la verità perché io so il tempo che ci ho impiegato i soldi che ci ho speso la tecnica che c'è dietro so quanto vale quell'impianto e ragazzi se lo doveva fare un'azienda da zero costruirlo con gli stessi componenti la stessa struttura i stessi cavi tutto ciò che batteria tutto non bastavano 30 mila euro non bastavano poi di mano d'opera di mano d'opera si superavi 7 8 mila euro sicuri ragazzi io ci combatto da mesi ok sono uno già in due si faceva in metà tempo già in tre si poteva fare in metà tempo comunque un sacco di soldi ragazzi già solo di struttura di ferro mi volevano 2500 euro ragazzi 2500 euro solo per fare quelle griglie che mi sono avuto costruito ma questa gente che ne sa chi è fox e cosa ha fatto fox lasciamoli parlare ragazzi un abbraccio a tutti ciao belli al prossimo video ciao